Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che tutto sommato sarà discreta perché si allontana una perturbazione e deve ancora passare del tempo perché ne arrivi un'altra. Quindi giornata che vedrà anche delle ampie schiarite, vediamo proprio la nuvolosità prevista sull'Italia con ancora degli addensamenti al sud, soprattutto a inizio giornata ma è lontanamente e dalle altre parti come vedete non mancheranno ampie aperture, si prepara però nel frattempo un nuovo sistema nuvoloso sull'Europa occidentale. Come precipitazioni qualche piovasco sarà possibile nella prima parte del giorno nelle regioni meridionali ma tenderà a esaurirsi col passare delle ore in attesa poi che arrivino nuove piogge da ovest ma solo a fine giornata sulle regioni nord-occidentali. Quindi in definitiva giornata diciamo tutto sommato discreta con ampie aperture da nord a sud, qualche piovasco diciamo al mattino ancora nelle regioni meridionali e a fine giornata prime piogge sulla Liguria e la bassa Lombardia, per il resto tempo buono e temperature però che iniziano a perdere qualche grado. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com